Calla il sipario su Masterfish 2021. Lunedì 27 dicembre alle 21.30 va in onda la finale del format realizzato da Rossini TV e prodotto da confesercenti Pesero Urbino che ha messo in gara dieci cuochi amatoriali cimentatisi con passione e maestria con la cucina del pesce del nostro mare. Cinque finalisti emersi da cinque ristoranti in cui Rossini TV ha girato altrettante puntate. Al settima fila alla baita da Gibas alla Canonica e allo Scudiero. Questa sera la sesta e ultima puntata al ristorante Consapore dello spazio Cona di Via Gagarin che decreterà il finalista di un'edizione che ha coinvolto la grande partecipazione dei ristoranti, degli studenti dell'alberghiero Santa Marta e del coordinamento dell'enogastronomo e sommelier Otello Renzi. Il tutto presentato dalla conduzione di Paolo Pagnini e Roberta Esperide. Ci siamo siamo arrivati alla finale di Masterfish naturalmente dopo cinque semifinali abbiamo i concorrenti pronti che scalpitano in realtà come i nostri telespettatori sanno la finale è già stata registrata ma nessuno ha fatto trappelare niente non si sa ancora nulla per cui il bello sarà seguire questa finale. La finale andrà in onda il 27 lunedì 27 alle 21.30 in prima tv e per tutti quelli che naturalmente con gli impegni delle feste non riuscissero a seguirla subito il giorno dopo una replica immediata alle 21.45 per cui due momenti importantissimi seguiranno poi altre repliche ma attraverso questa finale scoprirete e scopriremo tutti finalmente chi si sarà aggiudicato il titolo di Masterfish 2021.